È un doppio taglio, però credo che i ragazzi l'hanno interpretato nella maniera giusta e abbiamo avuto la cattiveria giusta per portare a casa i tre punti. Questo è merito di tutto il gruppo perché vuol dire che si lavora bene, che quello che è chiamato in causa risponde sempre alle aspettative. Sicuramente tutti vogliamo giocare, tutti vogliamo dare il nostro contributo, però purtroppo sono 11 quelli che vanno in campo e fino adesso quelli che hanno giocato di meno credo che sono stati quelli più importanti per questi tipi di partite. In questo periodo sarà molto importante anche il sostegno dei nostri tifosi perché dobbiamo affrontare una striscia di partite molto impegnative e quindi è un periodo nel quale dobbiamo stringerci ancora di più sia noi qua dentro che con i nostri tifosi e sicuramente loro ci possono dare una grossissima mano per raggiungere questo obiettivo. e hai allungato di sette punti alla seconda e di otto alla terza bene o male tante volte anche inconsapevolmente tendi un po' a rilassarti però credo che abbiamo una squadra intelligente che sa cosa ci stiamo giocando e che sa che adesso entriamo in una striscia di partite molto impegnative nel quale ci sono partite di scontri diretti e quindi vogliamo dare seguito a questo campionato a dare continuità ai risultati e mantenere questo vantaggio. Riguardo al Brescia è una squadra che adesso viene una sconfitta dentro casa e sicuramente contro il Palermo tutti vogliono fare la partita e noi staremo qua ad aspettarli.